buongiorno a tutti benvenuti a questo ultimo appuntamento eh per l'annualità duemilaventidue del nostro eh piano di attività eh datemi qualche secondo perché come sempre mi trovo a condividere le slide mi date conferma di vederle di di uscire a a visualizzarle? Perfetto grazie e come avete visto nel breve video introduttivo appunto questa è un'attività che è organizzata eh da un partenariato eh dei centri di Europe Direct in Italia. Eh che cosa sono i centri di Europe Direct? Lo abbiamo detto tante volte ma lo vogliamo ricordare. Sono dei centri di informazione eh sull'Europa eh aperto a tutti i cittadini che hanno bisogno di informazioni o che vogliono approfondire alcune tematiche. Eh in questo caso specifico eh noi lavoriamo in partenariato con i centri eh Roma Innovazioni che appunto è operativo presso il Formex PIA di cui appunto sono la coordinatrice. Il centro Europe Direct Trapani Sicilia che è operativo presso il consorzio interuniversitario di Trapani e il centro eh Università Roma Tre. Tenendo presente però che l'attività è eh organizzata e c'è stata proposta dal centro Europe Direct dell'Università di Siena e poi in realtà il modulo eh si svolge in eh diciamo eh è nato su iniziativa di un modulo Jean Monnet che viene coordinato dal professor Massimiliano Montini che tra l'altro ringrazio dell'Università di Siena che ha proprio l'obiettivo di sensibilizzare e accrescere la consapevolezza sui temi dell'economia eh circolare. Eh quindi quello che proponiamo oggi è un appuntamento che fa parte di un ciclo di lezioni sull'economia circolare. Quest'ultimo appuntamento è dedicato alla plastica. Questo è un tema che però come centro Europe Direct noi abbiamo trattato spesso anche negli anni precedenti. Abbiamo avuto delle attività liberi dalla plastica che appunto ha parlato dell'azione d'impulso dell'Unione Europea all'economia circolare e anche al contributo che ha dato dell'incidenza della plastica sull'ambiente per la riduzione della plastica sull'ambiente e questo si è tenuto nel duemiladiciannove. successivamente nel duemilaventi abbiamo riproposto un ulteriore webinar focalizzato essenzialmente sulle buone pratiche ehm diciamo nel riciclo della plastica e successivamente nel duemilaventuno nell'ambito del ciclo delle lezioni di Europa abbiamo avuto un altro appuntamento dedicato alla transizione ecologica e alla sfida dell'economia eh circolare. Il ciclo attuale invece ha previsto tre appuntamenti che si sono tenuti uno il dieci novembre dedicato al riciclo del tessile il secondo appuntamento si è tenuto il diciassette novembre ed è stato dedicato appunto nel riciclo dall'agricoltura al tessile e invece il quest'ultimo appuntamento quello di oggi sarà dedicato interamente alla plastica riciclata. Eh per quanto riguarda ehm il programma ci sarà qualche piccola eh variazione eh ma di questo poi ne parlerà il professor Montini quando introdurrà eh il webinar. Voglio solo ricordarvi il nostro focus europa.formes.it eh in particolare vi ricordo che nel box in rosso ehm quello quadrato trovate le nostre banche dati le banche dati dei bandi e le banche dati anche degli strumenti finanziari diretti dell'Unione Europea che possono esservi utile qualora eh intendiate presentare delle proposte di progetto eh nel settore della plastica riciclata. Vi ricordo pure che se volete essere eh costantemente informati sulle nostre iniziative di iscrivervi alla nostra newsletter ehm perché eh così possiamo inserirvi in un elenco di privilegiato perché appunto dovete dare vostro consenso e e potete ricevere tutte le informazioni relative alle nostre attività. Eh vorrei concludere dicendo che noi ehm in realtà ehm con questo appuntamento terminiamo il piano di azione relativo al duemila e ventidue. Ehm chiaramente avremo un piano di azione con tutta una serie di attività che incomincerà nel duemila e ventitré e volevo ricordarvi che come lo scorso anno anche quest'anno abbiamo previsto un ciclo di lezioni di Europa che partirà eh nel mese di marzo e si concluderà nel mese di maggio che prevede tutta una serie di appuntamenti su vari temi di interesse per l'Unione Europea e mh che quindi vi invitiamo a seguire eh perché alcune sono di eh grande interesse. Eh prevediamo ancora un ciclo dedicato al fake news dedicato essenzialmente ai giornalisti ma anche agli studenti delle scuole eh di comunicazione ma il ciclo sarà aperto anche a tutti i cittadini che in qualche modo vogliono eh seguire questo tema delle fake news. Successivamente nel periodo che andrà da settembre eh a dicembre sempre in partenariato con altri di Europe Direct organizzeremo un ciclo interamente dedicato alla presentazione del piano europeo contro il cancro e quali sono le misure di prevenzione che i cittadini possono adottare appunto per poter prevenire questa malattia. io lascio la parola al professor Montini prima di lasciare la parola però volevo ringraziare tutti i relatori che sono presenti oggi. Volevo ringraziare i partecipanti ma principalmente volevo ringraziare il professor Montini che ci ha invitato a partecipare a questa iniziativa che è stata diciamo ideata eh dall'Università di Siena. Prego professor Montini può ehm accedere. interrompo la condivisione. Perfetto. Buongiorno a tutti ringrazio molto la dottoressa Salvi che ha introdotto la il webinar di oggi ringrazio a nome della Europe Direct dell'Università di Siena che ho il piacere di eh coordinare a livello scientifico sul delega del del rettore eh ringrazio le altre l'Europe Direct la Europe Direct Roma Innovazione con la quale c'è una partnership ormai molto consolidata che come è stato menzionato è nata intorno al nostro progetto Lezione d'Europa che si svolge ogni primavera e stiamo preparando l'edizione duemilaventitré come ha detto la la dottoressa Salvi le altre due Europe Direct che hanno condiviso questa iniziativa la Europe Direct Trafano in Sicilia con la quale anche c'è una collaborazione di lungo tempo e la Europe Direct Roma tre con la quale abbiamo cominciato a collaborare in tempi più recenti. Questa partnership ha lanciato questo programma di tre webinar che si chiama appunto va sotto il nome di intersezioni e che trovate appunto eh diciamo complicizzato nella pagina di questo webinar e degli altri collegati eh che sono svolte appunto fra il novembre e il dicembre di quest'anno. Come è stato detto eh questo progetto si inserisce eh in un progetto più ampio che è un progetto Jean Monnet da me coordinato verso l'Università di Siena sull'economia circolare che ha visto un lavoro eh che abbiamo fatto con gli studenti qui dell'Università di Siena ma poi abbiamo ampliato anche al pubblico che non sta qui diciamo sul nostro territorio andando appunto a creare questa partnership e questo webinar per consentire di ragionare su questi temi a livello eh nazionale. Oggi abbiamo una ampio eh gruppo di di relatori ehm che hanno eh lo vedrete provenienze anche diverse e quindi riusciranno a darci un quadro ampio e eh possibilmente anche a sviluppare un dibattito intorno a questi temi ci sarà una sessione di eh di domande alla fine del del webinar. Quindi io ehm non non ho da dire molto altro sull'introduzione perché l'ha già fatto molto bene la dottoressa Salvi quindi direi di passare subito la parola al primo relatore rispetto al programma che è stato pubblicato abbiamo dovuto fare uno spostamento tra i relatori ehm dell'ultimo momento perché il eh il relatore della ditta Ojaer che è qui con noi è Davide Brugola e a a cui chiedo di attivare il suo eh video appunto per motivi interni e aziendali eh dovrà eh lasciare il webinar prima della conclusione e quindi ci ha chiesto di parlare all'inizio e noi eh con piacere insomma gli diamo il primo il primo slot diciamo del nostro nel nostro webinar e poi eh per il resto seguiremo l'ordine già eh fissato che trovate nel programma pubblicato nella pagina dell'evento quindi chiedo al dottor Davide Brugola di Ojaer il nome appunto come lui ci spiegherà da dove viene il nome dell'azienda è un'azienda che si occupa appunto di Fishing for Liter e ci spiegherà appunto cosa vuol dire in pratica fare questo come si collega al tema della plastica riciclata e e al tema poi che vedrete verrà ehm sviluppato oggi anche delle dell'inquinamento marino e di cosa possiamo fare con la plastica recuperata dai mari. Quindi grazie davvero al al dottor Brugola di della sua disponibilità e alla ditta Ojaer e le passo le scelgo volentieri la parola. Grazie. Grazie mille professor Montini, grazie mille. E grazie mille anche alla dottoressa Salvi per averci invitato. Penso che mi sentite tutti bene quindi adesso andrò a condividere lo schermo giusto per mostrarvi un attimo visivamente chi è Ojaer e già il nome è un po' un po' strano. Infatti prima quando ci eravamo ci siamo trovati mi hanno il professore mi ha subito chiesto ma toglimi un attimo un dubbio ma come diavolo si pronuncia perché effettivamente è una parola ehm che è inventata. È una parola inventata perché è l'unione di due termini inglesi che sono Ocean Gires che sono quelle correnti sottomarine che sono comuni a tutto eh l'ecosistema eh dell'oceano, l'ecosistema marino a livello globale e sono fondamentali perché permettono sia uno scambio di temperatura che di nutrienti e questo regola a livello locale eh il il giusto eh mantenimento dell'ecosistema. Purtroppo però queste correnti sono diventate famose eh perché creano quelle che vengono spesso chiamate da dai media dai 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 giornali eh come isole di plastica eh queste gigantesche distese di rifiuti in realtà non c'è solo plastica ma anche altri altri generi di altri generi rifiuti come può essere eh il il vetro o anche materiali ferrosi ehm davvero di tutto. Eh la più famosa è la The Great Ocean Patch eh per cui The Ocean Cleanup il progetto dell'ingegnere olandese eh è stato creato che si trova tra le Hawaii e la California e giusto per darvi un'indicazione di quello che è l'enorme problema dell'inquinamento marino è eh grande come l'intera penisola iberica. Quindi immaginatevi Spagna e Portogallo messe in centro nel nell'oceano Pacifico. Una cosa che invece eh spesso non viene ricordata è che ne abbiamo una anche qui nel nostro mar Mar Nostrum che spesso volentieri viene chiamato Mar Plasticum per la quantità di rifiuti eh marini che si trova in esso. Eh e per questo un po' i miei due co-founder, i miei due fondatori eh entrambi amanti del mare, uno è un surfista, l'altro è un velista ehm hanno fatto una riflessione e si sono detti noi viviamo il mare o meglio noi viviamo per il mare ehm però non siamo ancora riusciti a creare qualcosa che possa effettivamente risolvere quello che vediamo è un problema sempre più importante quello dei rifiuti marini e allora hanno pensato di creare un'azienda. Perché è un'azienda? Perché eh nella loro visione le le aziende non sono dei attori che eh reagiscono in maniera passiva eh per le questioni legate alla alla sostenibilità ma sono degli attori eh che possono effettivamente portare un beneficio alla società in generale e quindi andare eh verso eh il termine la visione che viene chiamata in inglese business for good quindi creare delle aziende che possano portare beneficio sia a livello economico quindi eh fare il profitto perché è un'azienda privata ma dall'altro canto portare un beneficio comune a livello della società e per questo hanno creato Gire eh e il nome per ritornare un po' e chiudere il cerchio ha è voluto riprendere queste correnti che adesso sono viste negativamente ma che potenzialmente eh se riusciamo a ripulire tutto il mare ritorneranno ad essere quello che effettivamente sono quindi fondamentali per la vita dell'ecosistema marino. Come hanno pensato di iniziare? Hanno pensato ehm di iniziare risolvendo il problema mettendo al centro qualcosa che effettivamente c'era già qualcosa che effettivamente c'era già ossia una persona o meglio uno stakeholder che vive il mare al cento per cento sia che sia bello sia che sia brutto tempo. Non è perché noi il quindici di agosto andiamo al mare eh che effettivamente l'inquinamento marino esiste soltanto ad agosto. L'inquinamento marino esiste tutti i giorni e la persona che più eh l'ha visto crescere sono i pescatori. Quindi in maniera eh quasi semplice perché non ci sono innovazioni tecnologiche all'interno della nostra azienda ma ci sono innovazioni di gestione di quello che esisteva già. Quindi hanno abbiamo messo al centro il pescatore eh colui che come dicevo ha visto sempre di più eh diminuire spesso volentieri il pescato nelle proprie reti e invece aumentare il rifiuto che eh raccattava durante le proprie attività di pesca. Infatti noi siamo la prima piattaforma eh globale e perché globale? Perché siamo attivi in Italia ma anche in Brasile e in Indonesia. In Italia abbiamo diversi porti eh Santa Margherita Ligure, Cesenatico, Teulada e adesso ne apriremo anche a Salerno e e probabilmente eh anche a Catanzaro ma comunque vogliamo arrivare dappertutto quindi eh se eh siete della costa adriatica o della costa della costa ionica non vi preoccupate della Sicilia arriveremo anche lì soltanto abbiamo bisogno di un attimo di tempo e eh siamo quindi una piattaforma globale per il recupero di rifiuti marini attraverso comunità di pescatori che di base è la traduzione di Fishing for Liter perché l'attività di Fishing for Liter è un'attività dove i pescatori durante le loro eh normali ehm normali sì sempre scusatemi tutte le volte che ripeto attività ma attività di pesca ehm recuperano i rifiuti che si incagliano nelle reti quindi o durante eh le giornate lavorativi oppure possono anche dedicare perché in alcuni casi i pescatori in Brasile e in Indonesia non hanno eh delle grandi imbarcazioni hanno delle lancette di tre quattro metri non riescono a fare le due cose contemporaneamente quindi dedicano metà giornata o una giornata intera eh della loro settimana lavorativa a recuperare rifiuti. Ehm e questo cosa cosa ci aiuta a fare? Ci aiuta ad avere un beneficio eh ambientale ma anche sociale perché noi diamo un contributo economico al ai pescatori che si attivano per recuperare rifiuti e in Italia non è sostanziale per far sbarcare il lunario al pescatore ma in Brasile e in Indonesia con anche il fatto che eh il tasso di cambio è vantaggioso per loro ha un'entrata eh che è notevole eh rispetto a a quella che può avvenire in maniera un po' più ehm variabile eh legata al pescato. Quindi questo invece a livello visivo è un po' come eh è la nostra eh la nostra piattaforma, i nostri stakeholder che sono in gioco quindi ovviamente ci sono i rifiuti in mare e vogliamo eh che non ci siano più per questo abbiamo attivato i pescatori e eh la nostra missione praticamente è dare la possibilità a tutti sia aziende che privati eh di eh salvaguardare il mare in maniera attiva eh contribuendo eh a livello economico per queste campagne di raccolta. Questi sono gli obiettivi eh che ci siamo posti. Questa slide in realtà è un po' vecchia eh perché ormai abbiamo già raggiunto 140.000 chili raccolti per il 2022 quindi abbiamo eh oltrepassato del del 40% il nostro il nostro obiettivo eh di quest'anno e come vedete vogliamo arrivare a eh duemila tonnellate eh recuperate entro il 2025 e sembrano un po' astratte e per questo infatti cerchiamo sempre di comunicare in maniera efficace eh facendo delle equivalenze eh facendo delle equivalenze dove raccontiamo quando attiviamo una campagna con un po' un partner eh facciamo dei piccoli obiettivi per arrivare a poi il target finale che possono essere mille cinquemila chili per quella determinata campagna ehm al cui interno eh andiamo a fare un'equivalenza con le bottiglie di plastica perché le bottiglie di plastica perché sappiamo che pesano dieci grammi e quei dieci grammi moltiplicati per la quantità riusciamo a trovare eh i rifiuti marini che abbiamo recuperato e perché le bottiglie di plastica semplicemente perché è un'unità di misura un po' antropomorfa nel senso che almeno una persona almeno una volta nella vita una persona alla vista questo è per spiegarmi invece un po' più nel dettaglio come funziona quindi noi apriamo un porto apriamo un porto quando troviamo una comunità di pescatori che si fa coinvolgere ha la volontà di recuperare i rifiuti durante le loro attività di pesca poi andiamo e cerchiamo di trovare un partner locale un partner tecnico eh spesso e volentieri sono ONG o eh centri di ricerca che ci aiutano per ehm rendi contare il rifiuto che il pescatore durante l'attività è andato l'ha recuperato l'ha riportato in porto e viene consegnato a questo partner tecnico il partner tecnico quindi rendi conto il rifiuto e questo cosa vuol dire che lo pesa per quantificare il nostro impatto positivo sull'ambiente lo fotografa per avere una prova tangibile e dopodiché lo separa indifferenziabile scusate e non differenziabile e dopodiché l'ultimo step è consegnare questi rifiuti separati al nostro partner che gestisce secondo la normativa vigente che cambia ovviamente da luogo a luogo per lo smaltimento dei rifiuti queste informazioni ad ogni modo non vengono perse vengono infatti caricate su una sorta di magazzino virtuale una nostra piattaforma interna certificata dall'enterina ma eh il prossimo trimestre entro marzo ehm dobbiamo andare a sviluppare ehm la blockchain sulla blockchain cerchiamo di andare ad accoppiare la nostra piattaforma interna con una blockchain che ci permetta di essere sicuri al cento per cento che tutte le persone possano vedere che non ci sia un doppio conteggio perché quando un la quella determinata pescata di eh Leonardo recuperata a Santa Margherita Ligure il 20 di dicembre viene caricata online diventa una sorta di token digitale diventa una un un asset digitale con un nome univoco gli diamo un codice univoco che però ovviamente potrebbe essere moltiplicato per diversi profili per questa per questo aspetto andremo a utilizzare la blockchain per dare un'indicazione immutabile tra la la transazione che avviene dall'account di Leonardo all'account della eh azienda che va a supportarci in questo momento è certificato dall'enterina quindi non ci sono problemi è già così però vogliamo dare un'ulteriore certezza e per questo andremo a implementare questa tecnologia che vi ho menzionato queste sono alcune delle nostre foto eh dei dei nostri pescatori da sulla destra o meglio forse sulla sinistra eh non so bene come lo lo vedete eh ci sono i nostri pescatori brasiliani che sembrano un po' eh fatemi fare la battuta eh una banda di narcos infatti dico sempre cerchiamo di non farli arrabbiare eh ma a parte gli scherzi sono 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 forse eh la la comunità di pescatori che recupera più rifiuti dal mare siamo attivi nella baia di Guanabara dove eh c'è un problema ecologico enorme eh anche perché siamo in prossimità delle favelas di Rio de Janeiro che durante le periodo il periodo delle piogge un sacco di rifiuti finiscono in mare da materassi lavatrici qualsiasi cosa invece in centro trovate i nostri eh pescatori indonesiani eh sopra e poi a sinistra invece i pescatori italiani Ojaer contribuisce al raggiungimento di quattro obiettivi di sviluppo sostenibile eh gli SDGs eh eh in particolar modo ovviamente Life Below Water SDG 14 eh perché è il recupero di rifiuti dal mare è uno dei pochi ehm è una delle poche attività di eh mitigazione dell'inquinamento che sia la certezza che ha un beneficio al cento per cento eh altre attività eh non sono così ehm così certe che portino sempre comunque un beneficio poi ovviamente responsible consumption and production perché noi riusciamo a andare a riciclare parte dei rifiuti che recuperiamo eh di solito si parla di una percentuale che va tra il 40 e il 20 per cento a seconda della zona e delle nature dei rifiuti che troviamo e anche in realtà di quanto il mare poi è andato a danneggiare il rifiuto perché ehm il mare comunque con il fatto che ci sia eh per esempio il mare Mediterraneo molto eh ha una preceduale di sale molto elevata e quindi soprattutto in Adriatico anche i i rifiuti vengono veramente poi attaccati eh dal sale e da dei dai batteri da eh da animali che vanno a rovinare il materiale quindi sarebbe più l'onere di pulirlo per rientrodurlo nella filiera del riciclo che invece smaltirlo correttamente eh con meno differenziato e però comunque per dire eh che riusciamo a recuperare dei rifiuti evitiamo la consumo di risorse vergine decent work economic growth invece perché portiamo eh un contributo economico come dicevo sia ai pescatori che poi anche alle ONG ai centri di ricerca e poi partnership for the course perché ovviamente tutto questo non sarebbe possibile senza eh la collaborazione di diversi nostri partner. Questi sono i case history eh in realtà li andrò a saltare sono alcuni esempi di aziende che lavorano con noi forse mi fermo soltanto su Luna Rossa eh perché a parte che sono anche un velista quindi eh sono un po' di parte ma con loro andiamo a fare un progetto che ad oggi è il progetto di eh più lunga durata e eh più strutturato dal punto di vista anche della sensibilizzazione e con loro andiamo a recuperare 6.000 kg di rifiuti in tre anni quindi fino alla prossima Coppa America che avverrà a Barcellona e oltre a recuperare i rifiuti con la nostra flotta globale andiamo anche a eh raccontare ehm sempre cercando di essere facili da comprendere perché quello è il problema essere facili da comprendere per riuscire a coinvolgere più persone possibili ehm rispetto al problema dell'inquinamento marino e come possiamo risolverlo. Quindi qui andrò molto veloce qua sono alcune delle eh testate che parlano con noi e eh e per concludere io vi dico giusto per darvi una un ordine di grandezza noi siamo nati nel duemila e venti quindi la dottoressa Salvi prima menzionava che la loro il primo webinar sulla plastica è stato fatto nella fine duemila e diciamo noi siamo nati inizio duemila e venti quindi non con i migliori auspici eh eh lato covid ma siamo riusciti comunque a barcaminarci siamo società benefit da sempre e B Corp invece da quest'anno ehm quindi sempre il movimento di business for good e e per l'appunto oltre a essere eh partner di Luna Rossa per cercare di sensibilizzare le persone siamo anche partner di UNESCO media partner per il decennio del mare eh e quindi sempre c'è la la parentesi che se noi andiamo a recuperare i rifiuti dal mare ma al contempo non riusciamo a educare le persone a l'importanza di queste azioni e l'importanza dello smaltimento corretto comunque di un utilizzo minore di risorse vergini eh diciamo che non risolviamo il problema al cento per cento mettiamo soltanto una pezza a quello che c'è già. Io mi fermerei qui se qualcuno ha delle domande eh sono a disposizione perché poi purtroppo devo devo scappare quindi nel caso dottore il il professor Montini non so. Sì grazie grazie e allora riprendo un attimo la la parola e ringrazio il dottor Brugola perché è stato molto interessante vedere vedere questa spiegazione insomma io un po' avevo letto qualcosa sulla vostra azienda ma lo dire la spiegazione è stata molto efficace molto chiara e quindi penso che per tutti noi che siamo quindi dire molto molto interessati anche a queste innovazioni è veramente una bella una bella esperienza la vostra. Io ovviamente ho interesse su questi temi a tutto tondo mi occupo di questioni giuridiche mi venivano tante domande ora in attesa che poi magari in lasciato possano arrivare altre domande allora la sessione domande sarà alla fine ma come ho detto all'inizio faremo un'eccezione per per voi se c'è qualche domanda del pubblico anche intanto farei una domanda eh che mi incuriosisce molto cioè l'aspetto l'incrocio per l'aspetto normativo e quello logistico diciamo lei ha detto giustamente le normative operando nei vari paesi sono diverse perché necessariamente poi il riuscito viene gestito su scala locale no? E quindi raccolto eh trasportato e e smaltito o riciclato a seconda del del paese ecco eh come ha detto lei giustamente c'è un problema di eh di qualità del rifiuto per cui spesso il riciclo non è facile ecco mi chiedevo se voi avete eh visto anche una diversità nei vari paesi rispetto alla filiera riciclaggio e riuso perché uno dei problemi che abbiamo visto nei nostri webinar è che eh che è molto diverso da paese a paese è che sono diversi i modi di raccogliere che ovviamente le normative e poi molto spesso è diversa la filiera che ricicla che è più o meno sviluppata ed è diversa la filiera che come dire chiede il materiale riciclato che è un altro problema in molti paesi ecco mi mi chiedevo se voi già come dire vi interessate anche di questa fase o questa è una fase che vi mandate ai vostri partner locali che poi gestiscono questa parte o avete delle delle strategie su questo diciamo grazie grazie mille per la domanda eh super interessante super complicata anche da rispondere perché purtroppo quando si parla di rifiuto l'atto normativo è veramente complicato veramente complicato e giusto per dare un incipit noi quando abbiamo iniziato in realtà nel duemila e venti era eravamo proprio al limite della legalità nel senso perché il rifiuto recuperato dai pescatori veniva considerato secondo la legge italiana rifiuto speciale quindi si era creato quella quel quel processo in cui il pescatore non recuperava il rifiuto o meglio se lo trovava incagliato nella rete lo prendeva lo ributtava in mare perché se no se lo riportava a terra era diventava praticamente il possessore diventava il proprietario del rifiuto e quindi doveva andare a incorrere in tutti i costi di gestione dello smattimento di un rifiuto speciale che sono molto più onerosi di un rifiuto invece urubano questo processo noi come abbiamo trovato una quadra abbiamo a Cisenatico in realtà a livello regionale hanno anticipato quella che è stata poi la salva mare che è passata quest'anno a giugno e quindi lì in realtà era più semplice lato normativa invece a Santa Margherita Ligure noi siamo di Bojasco non mi sono dimenticato di raccontarlo siamo di Genova quindi conosceva siamo riusciti a fare fare un tavolo praticamente con l'amministrazione con l'ente che gestisce rifiuti e abbiamo trovato un attimo una quadra una sorta di accordo ovviamente soltanto per quella determinata per quel determinato progetto per evitare che ci sia ci fossero poi delle ripercussioni e quindi abbiamo trovato questo escamotage ovviamente la salva mare ci ha aiutato tantissimo in Italia però anche lì la salva mare forse gli manca ancora un piccolo passo perché come anticipava il punto è noi recuperiamo il rifiuto il rifiuto che si può gestire e smaltire benissimo ma il rifiuto che poi si può riciclare chi può richiederlo in Italia questo non è ancora chiarissimo e quindi in questo momento in Italia è veramente complicato dare vita a una effettivamente un progetto completo di economia circolare è il nostro obiettivo a lungo termine anche perché recuperando sempre più tonnellate riusciremo a mettere a scala potenzialmente anche la produzione di prodotti proprio di economia circolare perché ad oggi noi facciamo prodotti più sostenibili come i nostri costumi da bagno noi abbiamo dei merchandising che è prodotto da un tessuto che si chiama SQL è certificato al 100% perché è recuperato da plastiche marine e plastiche di fine uso ma non lo produciamo noi e questo è quello è l'obiettivo invece in Brasile in Indonesia è in realtà praticamente quasi più semplice che in Italia perché la gestione dei rifiuti è in capo a enti privati che da un certo punto di vista sono più efficienti nel proprio nello smaltire e se possono nel rivendere il rifiuto che è riciclabile e per questo sono più virtuosi poi tralasciando il fatto che in Brasile in Indonesia trovi un sacco di plastica monouso quindi c'è anche la natura del rifiuto che entra in gioco e quindi permette anche che sia più redditizio il fatto di rivendere o comunque di rimettere questa questo materiale che spesso è molto molto giovane in Indonesia siamo a Bali quindi non so se qualcuno ha visitato Bali ma è un'isola che praticamente è un'isola resort e vi immaginate che a livello di turismo è molto focus sul monouso e questo si poi ripercuote su l'inquinamento marino che troviamo perfetto grazie della spiegazione perché ovviamente conosco bene tutti questi problemi il nostro il mio progetto diciamo già monnet che è stato poi il là per organizzare questi eventi nasceva proprio da questo cioè da vedere l'interfaccia tra l'aspetto normativo e l'aspetto operativo diciamo quindi conosco bene questi problemi personalmente ne abbiamo parlato già anche nei precedenti webinar non anticipo troppo sulla legge salvamare perché ci sarà l'intervento del professor Farid dopo che ne ne parlerà ma comunque ha già lei ben ben spiegato questo blu ha già ben spiegato qual era qual è il problema insomma rispetto a questo che quindi è il fatto che si possa dare la possibilità ai pescatori di partecipare a questa raccolta essere incentivati ma anche a livello normativo essere coperti e tutelati diciamo e trovo ottima l'idea di fare delle partnership locali perché poi in italia questo sicuramente il sistema migliore ma poi nel mondo lavorare su scale locali anche eh con i soggetti che hanno un ruolo istituzionale per il recupero dei rifiuti come il caso italiano oppure un ruolo di fatto eh che su certe aree come può essere il caso dei paesi stranieri che ha che ha menzionato molto molto bene la ringrazio molto non vedo altre domande in chat per cui a questo punto direi che la possiamo liberare e e mandare alle alle insomma far tornare alle sue attività aziendali ehm in modo da insomma non farle perdere troppo tempo la ringraziamo il il webinar verrà comunque registrato e poi eh comunque sarà possibile contattare i relatori anche successivamente ehm diciamo anche da parte dei 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 partecipanti e degli altri che fossero grazie mille grazie mille a tutti buona giornata e buon webinar gentilissimo grazie mille allora io andrei avanti a questo punto con il programma e chiederei al eh alla professoressa Messina di attivare il suo audio il suo video ecco la vedo e la ringrazio molto della sua della sua disponibilità eh proseguiamo quindi con il programma la professoressa Messina è ehm docente all'Università di Palermo ed è presidente della European Society for Marine Biotechnologies e quindi ci darà un inquadramento di tipo scientifico al al nostro tema eh il titolo della sua relazione è il ruolo delle biotecnologie blu nel miglioramento della sostenibilità delle risorse acquatiche la professoressa Messina coordina una serie di progetti molto interessanti dei quali mi ha un po' parlato ma che sono curioso di vedere più nel dettaglio oggi nella sua presentazione e eh ci piaceva appunto iniziare con questo inquadramento scientifico e poi proseguiremo invece con un inquadramento di tipo più più giuridico quindi ringrazio davvero la professoressa Messina e e così come gli altri relatori per aver trovato il tempo insomma di intervenire in questo periodo anche difficile sotto le feste dove siamo tutti con le gente molto piene ma eh davvero ci fa piacere che lei sia qui sia qui con noi quindi le lascio la parola e la ringrazio. Grazie professora dire la verità sono io che ringrazio lei e la dottoressa Marta Ferrantelli che è di Europe Direct Federico di Trapani per aver chiesto eh il mio coinvolgimento nella giornata odierna perché sia come docente eh che come al momento presidente della European Society di Forma Marine Biotechnologies sono ovviamente molto sensibile a tutte quelle attività di training e formazione che possono eh migliorare ehm la sensibilizzazione eh verso le tematiche che hanno a che fare con il luce sostenibile delle risorse soprattutto le risorse marine parliamo più in generale preferisco parlare più in generale di risorse acquatiche. Eh di fatto quando mi avete eh proposto di eh invitata al vostro webinar e abbiamo fatto e avete fatto inizialmente riferimento alla tematica della della plastica eh ma io anche sulla base delle attività condotte dalla società e anche sulla base delle eh attività specifiche eh condotte anche in in sede locale vi ho proposto un focus su una ehm su una ehm rifiuto speciale che rientra anche eh appunto tra le eh risorse particolari che meritano una gestione specifica e molto all'attenzione delle politiche eh internazionali e che eh merita assolutamente di essere ehm conosciuto e approfondito e studiato eh per il quale esistono appunto delle delle misure delle strategie importanti di valorizzazione attraverso percorsi di economia circolare. Quindi ecco io non vi parlerò di eh utilizzo eh di non vi parlerò eh del focus centrale della vostra giornata che è quella delle quella delle plastiche ma dell'uso di un della gestione di un rifiuto speciale eh in ambito marino che ha a che fare appunto con le risorse acquatiche e che è anche in un certo senso però collegato alla alla tematica delle plastiche. Eh parliamo partirei in generale proprio dal dal ruolo chiave che hanno eh le produzioni acquatiche come eh componenti chiave del sistema globale del food eh dal quale noi non possiamo prescindere per assicurare alla popolazione mondiale la food security. Quindi per raggiungere il il gollo, l'obiettivo che la FAO e le nazioni unite si sono poste e che eh mission eh continua e costante è quella di assicurare da un individuo sulla terra la sicurezza ehm alimentare in termini di adeguata eh possibilità di avere accesso quotidianamente ad una eh razione adeguata di cibo che possa permettere all'individuo di vivere eh e di sostenersi ehm e di sostenersi e contestualmente al rispetto di tutte quelle altre condizioni che eh possono assicurare il benessere in generale dell'individuo quindi che non va visto soltanto nel soddisfacimento del bisogno alimentare ma nel soddisfacimento dei bisogni non soltanto primari ma anche quelli che eh sono iniziti nell'essere nell'essere umano e che sono un po' anche quei gol a cui ha fatto riferimento il collega che prima eh che mi ha preceduta che e che ringrazio per aver menzionato proprio gli SDG ai quali anche io farò cenno. Quindi perché parto con questo argomento? Parto con questo argomento perché è stato proprio il crescente interesse a livello globale verso eh l'uso delle risorse acquatiche marine a scopo alimentare a determinare proprio negli ultimi decenni una condizione di depaperamento delle risorse ittiche e dovute a loro eh continuo eh prestante sovrascruttamento che è stato necessario per soddisfare la richiesta. È sempre più crescente di prodotto ittico che i consumatori hanno evidenziato perché sono eh diventati sempre più eh consapevoli sui benefici che derivano dal dal consumo di prodotti ittici, di prodotti che derivano dal mare per i benefici al al livello della salute, per lo spostamento che alcuni abitudini alimentari eh lo spostamento di alcune abitudini alimentari a cui abbiamo assistito quindi eh sono comparte nuove fasce di consumatori eh sempre più attente a una dieta corretta e bilanciata eh lo spostamento eh dell'alimentazione eh verso alimenti carne di natura marina rispetto agli alimenti carne e di natura terrestre e tutto questo ha fatto sì che si intervenisse, si andasse sempre più sulle eh sulle risorse acquatiche col prelievo situazione che ha determinato chiaramente un incremento dello sforzo di pesca, un peggioramento della sostenibilità delle ehm delle attività di pesca o comunque di eh anche di acquacoltura sulle risorse sulle risorse globali e eh ma nello stesso tempo a eh questa condizione ha determinato eh un eh un crescente sviluppo delle attività di acquacoltura che adesso ehm da qualche già da qualche anno eh rappresentano eh un contributo veramente significativo alla possibilità di soddisfare la richiesta sempre più crescente di prodotti ottici. E teniamo conto che dagli anni sessanta ad adesso eh il consumo eh pro capite eh è incrementato in maniera significativa. Siamo passati dai nove chili anni pro capite ai venti, trenta chili anni pro capite per alcune nazioni che hanno una eh grande eh tradizione del consumo di prodotti ottici soprattutto in Europa come appunto la l'Italia, la Spagna, il Portogallo e quindi la possibilità di poter continuare a soddisfare questa richiesta che le statistiche eh danno crescenti nella eh negli anni a venire e ci impone una riflessione e ci impone di lavorare tutti insieme per eh da un lato assicurare eh il soddisfacimento delle richieste ma nello stesso tempo eh assicurare la sostenibilità dell'ambiente meglio. Quindi ci si chiede se per soddisfare i principi della food security noi saremo in grado di sostenere la produttività del mare eh probabilmente lo siamo eh siamo in grado adesso probabilmente lo saremo domani ma cosa succederà nel breve eh medio periodo perché eh sono delle problematiche sulle quali dobbiamo riflettere velocemente. Di sicuro tra le soluzioni a cui si sta molto lavorando intanto il management delle attività correlate alla produzione primarie quindi che si pesca questa acquacoltura ma indirizzare molto i consumi verso quelle specie che non sono specie ehm necessariamente le specie target cioè quelle che hanno un maggiore valore sul mercato ma mettere in evidenza il valore nutrizionale e quindi anche eh l'utilità che altre specie magari accessorie possono avere anche nel soddisfare la richiesta di prodotto utico e e un'altra strategia che è quella che rappresenta il core del mio intervento e che va e che si collega all'argomento dei rifiuti è quello dell'uso e la valorizzazione di tutte quelle risorse acquatiche che non sono considerate risorse alimentari in dirette quindi tutte le risorse non food che però rappresentano eh una fonte importante di ehm molecole biattive che attraverso un approccio biotecnologico possono essere indirizzate ad altre filiere produttive di altri settori industriali come quello della farmaceutica, della nutraceutica, della cosmetico, dell'energia per attivare e realizzare percorsi di economia circolare. Questa tematica è ritenuta, è stata ritenuta così eh importante di rilievo vista la quota importante che queste risorse rappresentano a livello mondiale da eh far sì che venisse assegnato all'uso delle eh delle risorse non food un gollo specifico che è quello dello zero zero spread, dello zero waste e queste tematiche sono state all'attenzione della eh politica comune della pesca della strategia europea eh quattordici venti e chiaramente sono state recepite dalla blu grow dalla strategia della blu grow che poi eh è confluita diciamo rispetto ad alcuni obiettivi specifici nell'agenda venti trenta per l'obiettivo sostenibile e e la strategia nazionale di specializzazione intelligente ha dedicato dei focus specifici alla riduzione dello spreco alimentare alla valorizzazione dei sottoprodotti di lavorazione specifiche intervenendo anche su eh linee specifiche di ricerca che riguardavano ad esempio anche i sistemi per il packaging eh sistemi e le tecnologie per il trattamento e la valorizzazione dei sottoprodotti di lavorazione. Ma veniamo adesso al ruolo che le biotecnologie marine possono avere eh hanno avuto eh hanno e potranno promuovere nella eh migliorare nel eh l'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di pesca, acquocultura e lavorazione delle produzioni ittiche nella eh nel raggiungere l'obiettivo dello zero waste che è fondamentale per eh mettere a valore tutte quelle risorse che non hanno un impiego diretto come risorse al food. Troviamo inclusi questi obiettivi anche nel sustainable development al goal quattordici life below water già accennato dal relatore precedente che eh vuole eh raggiungere eh la miglioramento della sostenibilità dell'uso delle risorse delle risorse marine su tutti i fronti quindi dal dal settore della produzione primaria fino al al consumo e eh la possibilità di intervenire sulla valorizzazione dei sottoprodotti e eh ha un ruolo chiave importante. Quali sono ehm eh qual è il sostegno che le biotecnologie marine ehm qual è il sostegno che le biotecnologie marine possono dare eh nel vincere queste sfide che poi si si ripercuoteranno sul sociale. Quindi attraverso le biotecnologie marine noi possiamo contribuire a realizzare eh a produrre alimenti eh nuovi alimenti funzionali e che eh siano in linea con i requirements di ehm salute e nutrizionali e eh che possano garantire il benessere e quindi mh contribuire ad assicurare eh la salute e il benessere e con ripercussioni positive anche sociale. Eh attraverso le biotecnologie marine possiamo trovare nuove fonti di energia e possiamo mettere a punto processi eh e prodotti che ci possano consentire di intervenire su filiere rendendole più sostenibili o realizzando nuovi prodotti che ci permettano di valorizzare anche i sottoprodotti di lavorazione delle filiere eh agroalimentari con un focus specifico su quelle identiche. Perché questo? Perché ehm sia le attività di produzione primaria quindi tesca, acquacoltura ma anche le attività di lavorazione e processamento dei prodotti ittici eh restituiscono una quantità significativa di sottoprodotti di lavorazione appunto di quello che impropriamente spesso viene definito scarto ma parliamo di sottoprodotti e coprodotti che contengono ancora una quantità veramente significativa di prodotti e di molecole e frazioni ad elevato valore aggiunto. Allora è proprio su queste filiere eh che rappresentano una quota importante della nostra produzione eh che dobbiamo intervenire mettendo a valore alcuni processi eh approcci mirati alla valorizzazione dei sottoprodotti. Quando parliamo di scarti di della filiera pesca e acquacoltura parliamo intanto di sottoprodotti che derivano eh scarti che derivano dalla pesca intendiamo specie che eh non possono essere destinate direttamente al consumo perché magari sono specie sottotaglia o sono specie danneggiate sono specie che non hanno un valore commerciale ma che tuttavia contengono ancora proteine grassi ricchi in omega 3 e antiossidanti altre molecole interessanti per altri luci. Poi facciamo riferimento quando parliamo di scarti ai sottoprodotti di lavorazione dei prodotti della pesca eh che eh possono rappresentare in relazione alla specie di partenza una quota variabile dal 25 al 55 per cento quindi immaginatevi lì eh in questa percentuale cosa può essere incluso cosa è contenuto in termini di prodotti ad elevato valore e poi i prodotti di trasformazione dell'acquacoltura che sempre in relazione alla specie di partenza possono rappresentare una quota importante eh in termini percentuali rispetto al peso di partenza compresa tra il 45 e il 60 per cento e su questa ultima filiera che forrei anche l'attenzione trattandosi di filiere altamente controllate abbiamo la possibilità di ottenere anche sottoprodotti di qualità altamente controllata e i sottoprodotti di lavorazione delle specie ittiche o comunque gli scarti di gli scarti di pesca sono ricchissimi di quelle risorse non food eh le frazioni non food sono eh ricchissime di componenti ad elevato valore aggiunto tanto per citarne alcune eh la titina al chitosano la taxantina eh ma anche proteine amminoacidi e collagene e tra i lipidi ricchissimi in ehm acidi grassi a tutti noti la frazione di omega tre che i cui benefici sulla salute umana sono ormai ampiamente noti. Allora attraverso il recupero di molecole diattive da sottoprodotti di lavorazione noi possiamo favorire interazioni tra blue economy e green economy possiamo promuovere l'economia circolare possiamo eh alimentare filiere della nutraceutica della farmaceutica del packaging della cosmaceutica e con benefici a più livelli realizzare nuovi prodotti migliorare la competitività e non ultimo e per importanza migliorare la sostenibilità non soltanto eh dal punto di vista ecologico ma anche dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista sociale ed etico. Ehm ho voluto presentarvi alcuni esempi di caso studio eh condotti dal nostro eh gruppo di ricerca per farvi vedere come a livello locale già eh siamo abbastanza avanti su queste sulle linee che poi sono delle linee direttive che eh ricadono su ehm delle diciamo sono delle dei casi studio che sono stati realizzati grazie a linee di intervento su scala non soltanto locale ma anche nazionale e internazionale quindi ci muoviamo eh da progetti PON fino ad Horizon e progetti trasfrontalieri con la Tunisia grazie ai quali abbiamo potuto mettere in atto ehm azioni che ci hanno portato a realizzare anche impianti pilota per la valorizzazione dei sottoprodotti con un progetto PON eh finalizzato alla eh portare innovazione tecnologica a supporto dell'incremento della produttività e della competitività dell'acquacoltura siciliana abbiamo caratterizzato tutti i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione di specie dell'acquacoltura definito le tecniche di recupero di Omega 3 abbiamo implementato e trasferito la tecnica per l'estrazione di arricchimento di Omega 3 in Omega 3 dell'olio di pesce con benefici eh sul processo sul prodotto sul miglioramento della qualità sulla riduzione dell'impatto ambientale e queste diciamo sono alcune pubblicazioni che eh mettono in evidenza tutto il processo il processo produttivo risultati raggiunti sulla filiera dell'acquacoltura sulla filiera della lavorazione del gambero sapete che eh nella in Sicilia soprattutto a Mazzara eh abbiamo la marineria che sbarca la più grande quantità di eh di gambero, gambero rosso e gambero rosa e eh lavorando su queste filiere sulla filiera della trasformazione abbiamo potuto mettere a punto la tecnica per l'estrazione di astaxantina attraverso tecniche green come la supercritical food extraction eh eh insieme all'estrazione sulla frazione proteica di dicono i dati proteici che hanno un impiego soprattutto in farmaceutica e abbiamo potuto collaborare con le industrie che trasformano il tonno e quindi eh valorizzare i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione per ottenere un olio arricchito in Omega 3 e mettendo a punto un processo che ci permette di ottenere un olio food grade che soddisfa tutti i requirements dell'EFSA quindi è direttamente può essere utilizzato direttamente anche per il consumo umano e su un progetto a titolarità con il Dipartimento della Pesca Mediterranea stiamo eh implementando queste tecniche in eh passando agli impianti eh pilota per l'estrazione e l'arricchimento in Omega 3 da sottoprodotti eh che ci hanno permesso di ottenere quindi farine e valorizzare collagene carotenoidi antiossidanti su grandi volumi quindi siamo già su volumi industriali. Eh queste eh esperienze di trasferimento tecnologico sono eh hanno rappresentato la base per il coinvolgimento in progetti che eh sono di più ampio respiro e che ricadono nel social engagement e quindi ci hanno eh permesso di ehm cogliere l'invito di consorsi ehm di ricerca che ehm ci hanno dato la possibilità di entrare in un progetto Rai giorno sul Governance 09 eh in cui il nostro caso studio rappresenta il caso studio da ehm che su base regionale può verrà traslato eh su altre eh realtà eh europee e quindi eh come ehm la valorizzazione dei sottoprodotti ehm delle filiere pesche acquacoltura può incentivare e alimentare percorsi di economia circolare e quindi interagendo con altre filiere produttive e un altro progetto di social engagement che invece vede ruolo chiave eh della eh delle filiere produttive nel alimentare i percorsi di eh che possano migliorare a livello sociale ehm attraverso appunto un engagement quindi formare nuove figure professionali che siano eh adeguatamente formate per le biotecnologie marine in maniera tale da poi poter apportare nei settori produttivi e nelle industrie eh innovazione tecnologica quindi tenendo conto delle specificità locali. E la nostra è la hub dedicata alla Blue Economy e siamo in collaborazione eh appunto con il consorzio universitario di Trapani, con Apre eh con il distretto produttivo della pesca e crescita blu con i flag e anche con eh il progetto Rive on Blue Red e il progetto Italia Tunisia Rari Biotec. E la tematica della eh del food è estrettamente connessa ovviamente alla tematica del packaging e quindi siamo anche in una cost action che mira a rendere quindi i packaging più sostenibili. Ecco questo sicuramente troviamo anche un punto di contatto molto stretto anche con la tematica delle plastiche perché siamo in collaborazione con dei gruppi di ricerca che sono molto avanti nella realizzazione dei packaging biocompatibili e biodegradabili e tutte queste azioni sicuramente che eh rientrano nella eh tematica del green di l'europeo avranno la ehm contribuiranno a favorire la transizione verso l'economia circolare, migliorare la gestione delle risorse, migliorare la sostenibilità eh economica dei settori blu, quindi tutto quello che attiene dai scappo, cultura e trasformazione, contribuendo non soltanto al raggiungimento del gol quattordici ma anche a quello al raggiungimento del gol dodici, quindi un consumo, consumo e produzioni più responsabili. Tutte queste tematiche sono eh incluse anche in azioni che mirano a formare nuovi giovani eh nuove figure professionali ehm che eh che possano appunto apportare innovazione nel settore produttivo quindi in ambito sociale. Abbiamo dottorati innovativi, dottorati industriali che eh mirano a eh li abbiamo anche realizzati eh e li abbiamo in corso che mirano appunto a eh raggiungere questi obiettivi eh inclusi nel nel Greenville europeo e tutte queste tematiche sono all'attenzione della European Society for Marine Biotechnology che ha tra le sue mission quella di ehm disseminare nei giovani, negli studenti, nei dottorandi, nei giovani ricercatori eh la eh sensibilità verso eh il ruolo che le biotecnologie marine possono avere per vincere le sfide sociali che ci possano portare ad un miglioramento dell'uso sostenibile delle risorse blu. Ehm volgiamo un'attività un'attività molto significativa soprattutto di training favorendo appunto train ship tra i laboratori che fanno parte del network e sicuramente eh potremo rimanere in contatto per eh stabilire anche delle collaborazioni e migliorare anche gli scambi tra giovani e mh e ci avvaliamo anche della rete ovviamente della rete Ravnos per realizzare eh gli agreement tra ehm i laboratori ospitanti e le università, le standing institution e quindi ehm mi fa appunto particolarmente piacere concludere eh questo mio intervento con un invito a rimanere a rimanere in contatto e con una foto che ritrae appunto la eh mia città in cui c'è anche una sede della Little Direct e nella quale spero prossimamente di grazie anche eh innanzitutto al professor Montini e al ruolo della dottoressa Ferrantelli di avervi tutti magari qualche volta ospiti per un grande workshop e vi ringrazio ancora per questo. Grazie mille alla professoressa Messina che abbiamo eh con piacere eh diciamo avuto fra i nostri relatori oggi e ha fatto bene a ringraziare la dottoressa Marta Ferrantelli che è una dei nostri partner eh la responsabile della Europe Direct Trafano e Sicilia che ha messo in contatto la professoressa Messina con noi e che ci supporta sempre sia eh nella ricerca dei relatori sia nella promozione dei nostri eventi eh in Sicilia e devo dire che ormai è molto tempo che abbiamo delle partnership molto interessanti con con la Sicilia e quindi siamo siamo molto contenti la la ringraziamo. Io passo subito agli altri interventi perché il tempo ovviamente è poco e quindi bisogna eh subito andare avanti. Lasceremo poi se possibile qualche spazio per le domande alla verso la fine del del webinar. Quindi passo subito la parola al professore Andrea Farid dell'Università Roma 3 che ci parlerà invece della Blue Economy e l'economia circolare guardando alla dimensione giuridica quindi tornando un po' anche ai temi che già sono stati toccati nel nel primo intervento e mettendoli in relazione con i temi toccati eh più in generale dalla professoressa Messina e penso e immagino parlandoci anche della nuova normativa salva mare che sicuramente è stata già citata e che interessa molto ai nostri partecipanti. Grazie anche al dottor Farid per la sua eh gentile disponibilità e gli lascio subito la parola. Sì grazie no sono io che ringrazio voi dell'invito e anche professor Montini ovviamente anche la professoressa Moschetta dell'Europe Direct della mia università di Roma 3 che ha insistito ma non ha dovuto insistere troppo per invitarmi a questo a questa interessante occasione di di scambio. In realtà entrambi gli interventi che mi hanno preceduto hanno già toccato i temi di cui eh avevo intenzione di di parlare da punti di vista diversi e almeno a mio avviso assolutamente eh molto molto interessanti entrambi. Ehm il profilo giuridico da questo punto di vista e da un certo punto di vista forse quello meno interessante eh da un altro costituisce l'elemento di limitazione di blocco spesso ad esperienze che dal punto di vista imprenditoriale o di ricerco e industriale sono evidentemente da considerare assolutamente virtuosi. Perché? Perché il diritto pone delle regole nella gestione di questi materiali o rifiuti e la qualifica come materiali o come rifiuti non è è il primo di questi di questi ostacoli e pone tutta una serie di presidi di legalità di implementi legati alla tracciabilità, alla riconoscibilità eh della della movimentazione di questi rifiuti che per tanti anni hanno costituito un un elemento di di blocco del del sistema assolutamente assolutamente negativo. Ehm prima si faceva riferimento ad alcune quantità mi sembra che il primo intervento abbia detto che la società eh riesce a a raccogliere circa duemila tonnellate l'anno eh di di rifiuti in mare. Beh i dati ci dicono i dati dell'Unione Europea che ogni anno vengono immesse nel mare circa ventisettemila tonnellate di microplastiche eh di macroplastiche chiedo scusa quindi di rifiuti eh di rifiuti plastici e che di queste eh il settanta per cento circa sono plastiche monouso e materiali eh connessi alle attività di pesca. Quindi ogni anno il settanta per cento di ventisettemila tonnellate viene rilasciato in mare ed è costituito da rifiuti di plastica monouso e attrezzature di pesca eh che vengono abbandonate deliberatamente eh in in mare. Ehm questo perché è un tema eh che riguarda lo sviluppo dell'economia blu quella che viene cosiddetta chiamata la blu economy ovvero l'economia legata a tutte le attività connesse con eh con il mare ed è un uno spettro di attività molto più ampio di quello che si potrebbe immaginare eh in modo assolutamente superficiale perché riguarda da un lato le attività eh di pesca ma anche le attività turistiche ma anche soprattutto tutte le infrastrutture connesse con il mare e con e con le coste eh quelle portuali e quelle ad esempio ehm relative alla mobilità sul sul mare e quindi ai trasporti. Quindi in in questo contesto l'Unione Europea sta da anni eh assolutamente sviluppando eh una serie di strategie e piani di azione particolarmente significativi. La marine strategy eh dell'Unione Europea eh ormai da anni ci indica come eh dobbiamo iniziare a prestare al mare la stessa attenzione che abbiamo prestato a tante attività svolte sulla terraferma e che ci hanno fatto per tanti anni un po' dimenticare la dimensione giuridica e l'importanza quantitativa poi per il perseguimento degli obiettivi che ci si poneva in materia ambientale del tema del tema marino. Io in modo assolutamente diciamo personale quindi arbitrario vi potrei indicare due settori che in materia ambientale sono sempre stati un po' la cenerentola nel senso che sono stati considerati settori in cui gli adempimenti, gli obblighi in materia ambientale sono sempre stati considerati eh più difficili da perseguire, sono stati i settori per i quali sono state previste più spesso deroghe o mh deroghe rispetto a obiettivi generali o obblighi generali che venivano imposte per le attività svolte ehm in altri settori e sono due, uno è l'agricoltura e l'altro è appunto il mare. Ebbene i dati del mondo non giuridico quindi quello più attento forse alla realtà faccio una espressa autocritica diciamo in quanto appartenente al settore ci dicono che in realtà per il perseguimento degli obiettivi ambientali che a livello internazionale e globale ormai ci si pone due settori che contribuiscono quantitativamente in termini per esempio di riduzione delle emissioni, di gestione delle emissioni, assorbimento delle emissioni nocive o proprio per la produzione del eh di rifiuti o per la gestione delle delle risorse idriche sono l'agricoltura e il mare. E quindi c'è stato per molti anni uno sfasamento fra il peso quantitativo di questi settori nel nel perseguimento degli obiettivi ambientali e l'attenzione che il mondo del diritto e il diritto ambientale ha dedicato a questi settori. Questo aspetto si sta eh si sta riducendo, questo divario si sta sicuramente riducendo e un aspetto lo vediamo appunto nelle politiche marittime eh in cui ad esempio ha trovato ormai asilo in modo ufficiale e definitivo anche un'attenzione particolare per l'economia circolare. Ne avete ne stiamo già parlando da ormai eh diversi minuti, sapete benissimo di che cosa si tratta, si tratta di quel modello economico che tende a a differenza di quello lineare a ridurre gli impatti per l'apprensione di risorse naturali vergini in natura eh prendendoli invece dai prodotti a fine vita dei cicli produttivi e quindi utilizzando come materia prima ciò che si può trovare negli scarti, chiamiamoli genericamente così, che poi possono essere qualificati giuridicamente come eh rifiuti oppure eh come sottoprodotti. Ho sentito molto la professoressa Messina parlare prima di sottoprodotti eh un tema a me caro ormai da diversi diversi anni e quindi mi fa piacere eh che il mondo della ricerca sia andato da questo punto di vista avanti con un livello di elaborazione molto superiore della ricerca scientifica rispetto a quanto non abbia fatto il diritto che invece fa ancora molta difficoltà ad inquadrare giuridicamente queste eh queste figure. Eh bene nella in uno dei tanti atti dell'Unione Europea in questo in questo settore una comunicazione del duemila ventuno che si chiama appunto trasformare l'economia blu dell'Unione Europea eh in verso un futuro sostenibile si indica quali sarebbero gli obiettivi da perseguire per far sì che l'economia circolare venisse applicata efficacemente anche al al mare per perseguire eh gli obiettivi ambientali complessivi e eh da un lato si indica come obiettivo quello di dimezzare i rifiuti di plastica in mare, il rilascio di sostanze nutrienti in mare, l'utilizzo di pesticidi e rischi associati, ridurlo entro il duemilatrenta, adottare misure per limitare le microplastiche aggiunte intenzionalmente eh e aumentare da questo punto di vista la sensibilizzazione dei consumatori, degli utenti con un meccanismo di etichettatura e certificazione eh più più efficace rispetto rispetto al 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 passato e in da questo punto di vista per quello che adesso di di seguito vi dirò in modo particolarmente significativo si indica anche la necessità di garantire che i rifiuti catturati durante le operazioni di pesca siano dichiarati in porto e che gli attrezzi da pesca in plastica siano raccolti e riciclati dopo il loro utilizzo. Questo a livello diciamo strategico eh europeo c'è anche un ulteriore punto che riguarda il riciclaggio delle navi in quanto tale quindi il recupero dei materiali dalla dismissione, lo smantellamento delle navi e delle piattaforme offshore. Ricordiamoci tutti quanto è stato complicato nel nostro paese ad esempio questo tema con riferimento a a uno dei casi ma quello che è stato più noto alle cronache della costa concordia no? Vi ricorderete che per capire dove poterlo smantellare secondo gli standard europei c'è stata una bagarre significativa tra il porto di Genova e il porto di Livoro. Eh ritornando al tema delle dell'economia circolare questo punto in realtà della eh della valorizzazione della raccolta sicura del e sempre più efficiente dei rifiuti in mare e dei prodotti dei prodotti di plastica ha trovato accoglimento nel nostro ordinamento eh in due in due occasioni diciamo da un lato con l'attuazione nel nostro ordinamento della eh direttiva appunto eh sulle sulle microplastiche la direttiva sulla plastica monouso e il mare in litter la direttiva novecentoquattro del duemiladiciannove che nel nostro ordinamento è stata recepita col decreto legislativo cento novantasei del duemilaventuno. Questo è stato tuttavia soltanto un primo capitolo perché a questa se ne è aggiunto un altro di intervento, un intervento se vogliamo dal punto di vista eh anche politico istituzionale, un intervento di bandiera eh che ha trovato dopo un lunghissimo e travagliatissimo iter eh normativo eh definizione con il con la legge sessanta del duemilaventidue ovvero appunto la cosiddetta legge eh salva mare questo titolo enfatico in realtà poi eh a a questo titolo enfatico corrispondono delle misure molto precise e e molto delimitate se vogliamo nell'ambito di applicazione ma che certamente riguardano appunto eh il tema del raccogliere i rifiuti in mare. Eh prima il dottor Brugola ha rappresentato bene il problema del raccogliere i rifiuti in mare. Io cerco di darvi giusto due elementi per eh precisare e in parte dare il mio punto di vista un po' diverso sui profili giuridici della problematica. Ehm eh lui ha detto ed è certamente così che prima della legge salva mare raccogliere dei rifiuti in mare sostanzialmente non era non era conveniente per gli operatori eh perché avrebbero dovuto sostenere i costi della gestione del rifiuto in quanto il rifiuto era qualificato come rifiuto speciale. In realtà non dipende dalla disciplina italiana, è la disciplina europea che ci dice che cosa è un rifiuto urbano e che cosa è un rifiuto speciale e dipende dalla provenienza. Se proviene da un'utenza domestica è un rifiuto urbano. Se proviene da un'utenza non domestica non è un rifiuto urbano. Evidentemente l'attività di pesca ad esempio è un'attività imprenditoriale e pertanto i rifiuti che provengono da un'attività imprenditoriale sono normalmente e ordinariamente qualificati come rifiuti speciali. Questo non fa sì che abbiano una difficoltà maggiore di gestione, fa sì che non siano ricompresi nella gestione del circuito del servizio pubblico che gestisce invece soltanto i rifiuti urbani. Questo significa che non si possono buttare rifiuti speciali nel cassonetto ma bisogna dotare, pagare un operatore che venga a raccoglierli. Evidentemente questa che è una regola generale applicata ad un settore specifico come quello dei rifiuti raccolti in mare ha generato una distorsione significativa negli effetti perché ha fatto sì che soprattutto in mare dove i controlli sono certamente molto più difficili molta parte di molti soggetti rilascino deliberatamente questi rifiuti per non doverli poi conferire una volta attraccati in porto. In realtà questa che è una conseguenza diciamo una preoccupazione di carattere economico non è neanche la principale. La principale assai più gravosa per gli operatori e la distorsione maggiore che si era creata riguardava proprio la possibilità di raccogliere i rifiuti in mare e di portarli e di conferirli nel porto. Perché? Perché anche qui non certo per una disciplina italiana ma in generale per una disciplina europea valida in tutti gli stati dell'Unione Europea e chiunque trasporti e movimenti i rifiuti deve essere un soggetto tracciato e a ciò autorizzato. Se voi potete volete trasportare un rifiuto eh sul nella vostra macchina e non è un rifiuto urbano rifiuto speciale quello che ne sono dei vostri uffici e voleste caricarvi tutti i toner dei vostri uffici nella vostra macchina per andarli a conferire non potreste farlo perché per poter trasportare i rifiuti eh movimentare i rifiuti bisogna essere iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali che verifica e traccia tutti i mezzi che sono autorizzati al trasporto di rifiuti e onde prevenire la una gestione non corretta ad esempio un abbandono o eventi di danno nel trasporto di rifiuti. Quindi ehm il soggetto che trasporta rifiuti senza esserne autorizzato eh commette un reato. La sanzione applicabile è una sanzione penale e molto spesso a seconda delle caratteristiche che ha può addirittura assumere i contorni del traffico illecito di rifiuti. È questa è stata questa per tanti anni la maggiore distorsione del meccanismo giuridico che ha fatto sì che assolutamente legittimamente i i natanti i pescherecci eh gli uomini in mare non avessero non intenzione ma non potessero raccogliere i rifiuti che trovavano in mare per poterli portare eh presso i porti. Quindi all'aspetto economico si aggiunge l'aspetto sanzionatorio particolarmente rilevante. Su tutti questi aspetti su questi aspetti incide la disciplina eh del salva mare insieme ad alcune disposizioni appunto del decreto legislativo centonovantasei duemilaventuno che è quello che ha ricepito la direttiva sulla plastica monouso perché da un lato eh consente di raccogliere questi rifiuti senza rischio raccogliere rifiuti diciamo accidentalmente pescati senza alcun rischio perché perché prevede che i soggetti che raccolgono possono portarli e conferirli senza gli oneri e gli adempimenti previsti sulla terraferma eh fino alla al porto e quindi legittima la possibilità di trasportarli senza che questo corrisponda ad una fattispecie di reato. Il secondo aspetto è la possibilità appunto di conferire questi rifiuti in modo gratuito e che cosa fa la legge? Non prevede ovviamente che questo debba essere fatto in modo gratuito ma qualifica i rifiuti raccolti accidentalmente nelle attività di pesca eh come ehm rifiuti urbani in questo modo attraverso la qualificazione come rifiuti urbani che se vogliamo è assolutamente una forzatura giuridica è una fixio iuris fatta appositamente soltanto per consentire questa attività eh ne consente il conferimento in modo differenziato cioè con dei castonetti appositi presso i porti e affidandone poi la gestione al gestore dei rifiuti urbani del porto eh l'autorità portuale solitamente con una convenzione si serve del gestore dei rifiuti urbani del del comune in cui in cui è in cui è situato e quindi da un lato eh l'aspetto sanzionatorio viene scavalcato dall'altro l'illicità della fattispecie viene eliminata dall'altro lato ne viene assolutamente garantita la gratuità attraverso l'equiparazione con i rifiuti urbani. A questo si aggiunge per consentire la sostenibilità economica del delle operazioni di raccolta e successivamente di recupero un altro strumento che non trova eh accoglimento nella legge salvamare ma che era già stato approvato nel nel decreto legislativo centonovantasei che è la previsione del meccanismo della responsabilità estesa del produttore per chi produce attrezzature di di per la pesca. La responsabilità estesa del produttore in due parole è quello strumento giuridico che eh impone al soggetto produttore di un prodotto di sostenere i costi del fine vita di quel prodotto quindi quando quel prodotto diventerà un rifiuto e di sostenere i costi della raccolta e del recupero di quel prodotto una volta che il soggetto che l'ha utilizzato e consumato se ne disfa. Eh è il meccanismo in base al quale eh che già esiste per tipologie di materiali per la plastica per la carta per il vetro per i pneumatici per l'olio minerale per l'olio vegetale per le batterie insomma per tante filiere e che trova una formula organizzativa in quella dei consorsi di filiera. Ehm questo meccanismo che il recentemente il pacchetto sulla circolare economy del duemiladiciotto e anche nel nostro paese eh il decreto centosedici del duemilaventi è ulteriormente potenziato eh viene può essere ampliato con dei decreti ministeriali e con delle previsioni normative all'interno degli stati a vari filiere. Eh con il decreto centonavantasei viene prevista la necessità di istituire il regime della responsabilità estesa del produttore per i produttori di articoli per la pesca. Questo perché qual è il vantaggio di questo meccanismo? Che i produttori dei prodotti della pesca che tendenzialmente sono prodotti in plastica o con fribri tessili difficilmente recuperabili hanno tutto l'interesse a rendere economicamente più sostenibile il fine vita di questi prodotti e per fare ciò devono raccoglierne il più possibile e recuperarne il più possibile e per poterlo recuperare il più possibile a costi più sostenibili saranno incentivati a produrli già con modalità ambientalmente sostenibili e questo è il concetto del cosiddetto eco design ovvero produrre dei prodotti in modo tale che il recupero dei materiali in esso contenuti sia successivamente più eh più più semplice. Un ultimo aspetto su cui incide questa normativa è quello della possibilità del diciamo di recuperare questi prodotti dopo la raccolta e qui c'è una disposizione a mio avviso assolutamente ehm imprecisa nella legge salva mare eh che prevede la necessità che con decreto ministeriale siano stabilite le modalità per recuperare i prodotti raccolti nelle in mare e far sì che cessino di essere rifiuti il cosiddetto end of waste. In realtà l'end of waste fino ad ora in tutti i settori dell'ordinamento eh e sta in tutti i settori produttivi per cui è stato applicato riguarda il tipo di materiale quindi c'è l'end of waste per la carta, l'end of waste per il ferro, l'end of waste per il vetro, non il luogo in cui sono stati raccolti perché evidentemente potranno essere raccolti eh prodotti di diverse di diverse di diverso materiale. In ogni caso diciamo che il legislatore pone l'attenzione sul fatto che dopo averli raccolti in sicurezza, averli raccolti in modo economicamente sostenibile devono essere anche recuperati e quindi crea uno strumento per favorire il più possibile, per favorire il più possibile questo eh questo recupero. Eh dal punto di vista sostenibilità economica una cosa che ho dimenticato è che possono essere raccolti nel circuito dei rifiuti urbani ma per questo ci sarà una addizionale diciamo nella tariffa eh rifiuti che viene applicata dai gestori del del luogo in cui si eh questi rifiuti questi rifiuti verranno verranno raccolti. Ehm tutto questo meccanismo io ve l'ho descritto per i rifiuti accidentalmente pescati in realtà nella legge salvamare è contemplata un'altra tipologia di rifiuti quelli volontariamente pescati in campagne di raccolta della plastica che possono essere poste in essere da una serie di eh soggetti ehm una serie di soggetti del diciamo del del settore eh gestori delle delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni dei pescatori, cooperative delle imprese di pesca, i consorsi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, sportive subacquei e diportisti eh gestori gestori dei centri di immersione e addestramento ovvero tutti i soggetti che eh sfruttano utilizzano il mare come luogo della propria attività benefica o imprenditoriale sono soggetti che potranno realizzare delle campagne di raccolta volontaria eh di raccolta volontaria dei rifiuti. Ai rifiuti raccolti in modo volontario si applica il medesimo regime che vi ho appena descritto e quindi la possibilità di conferirli come rifiuti urbani presso le ehm presso le le aree portuali e presso le quali dovranno essere adibiti però attenzione ricordiamoci che la legge ci dice la raccolta deve essere differenziata quindi ci dovranno essere dei dei contenitori appositi quindi diciamo che complessivamente la legge interviene eh per eliminare quegli quelle distorsioni che l'applicazione del regime ordinario avrebbe ha determinato fino adesso eh nel settore della impedendo la raccolta la raccolta di questi di questi rifiuti anzi se vogliamo anche favorendone l'abbandono in mare piuttosto che non in altre matrici ambientali. Io concluderei qui anche per non dilungarmi troppo. Grazie, grazie mille al professor Farì che mi pare ha fornito un quadro molto chiaro della 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 legge salva mare cosiddetta legge salva mare e di cosa è cambiato rispetto a alla normativa precedente diciamo creando quindi facilitando la possibilità del recupero del rifiuto in in mare quindi lo ringrazio perché ha chiarito questo secondo me in modo molto preciso molto puntuale questi questi aspetti eh a questo punto siamo un po' eh lunghi con i tempi ma eh dobbiamo trovare assolutamente lo spazio per l'ultimo intervento e quindi sforiremo di qualche minuto ringrazio eh Fabio Buccolini della Lega Navale di Ostia che ehm si occuperà del ruolo della società civile nel nel recupero della plastica ci racconterà anche cosa fa la Lega Navale e e come contribuisce a questa eh grande campagna di di recupero dei rifiuti dal mare che si lega al al lavoro eh diciamo di approfondimento eh che propone il nostro webinar. Mi spiace per essere arrivati un po' lunghi con i tempi e mi scuso insomma per il ritardo con il eh dottor Buccolini al quale passo subito la parola. Ma io ringrazio ovviamente della parola spero di non dilungarmi molto anzi vorrei essere molto pragmatico come si usa di solito in mare navigando e spero di riuscire a condividere il il video ok fondamentalmente non so se sia così dovrebbe forse funzionare non so se si vede si vede ancora no si vede uno schermo bianco adesso no vabbè comunque vado vado rapidamente abbraccio augurandomi che almeno il video provocatorio che ho inserito in eh relazione funzioni diciamo che l'Eca Navale Italiana per chi non la conosce è la la forse più antica struttura associativa di appassionati per il mare fondata oltre cento venticinque anni fa. Perdoni l'interruzione le chiediamo cortesemente se interrompe la condivisione dello schermo così rivediamo lei in video. Ok va bene allora torniamo qua interrompo la condivisione rieccomi qui dicevo la più antica associazione sportiva per coloro che vanno in mare con oltre cento venticinque anni di di storia che mette assieme nel suo statuto tutte le attività che possono essere svolte all'interno del magnifico mar Mediterraneo partendo sia dalla parte sportiva ma anche eh quella ambientalistica naturalistica eh che ovviamente cento venticinque anni fa c'era forse una diversa sensibilità. Eh la nostra sezione Lega Navale di di Ostia ha fondata nel milenovecento trentasei eh quindi con più di ottantasei anni oramai di storia raggruppa ancora seicento soci, ottantasei atleti agonisti, mille e cinquecento corsi di vela anni sfruttando il serbatoio della della capitale ovviamente essendo Ostia il mare della capitale e annovera tra i suoi soci e atleti anche persone che hanno svolto attività a livello olimpionico. Io non so se si riesca a eh vedere fondamentalmente il video provocatorio che vi accennavo prima. Vediamo un attimo se ci riesco. Ok. Fondamentalmente vediamo un po' se funziona. Questo dovrebbe essere il la url che in qualche modo su YouTube avevo per l'appunto previsto di presentare. Se si vede non lo so ma diciamo che raccontandovela si vede ma non è attivo il video va beh fondamentalmente raccontandovela ancora si tratta del l'allora eh spot di carosello del Moplen con Gino Bramieri che eh di fatto faceva la eh pubblicità a eh un prodotto che in qualche mi sentite ancora? Pronto? La sentiamo la sentiamo. Sì sì che faceva la pubblicità faceva per l'appunto la pubblicità al forse è meglio a questo punto togliere la condivisione lo schermo così vediamo lei. Sì se ci riesco perché credo di aver avuto un problema qua con la presentazione. Allora vediamo un po' se ci riesco qua. Che sia ancora in connessione. Il problema è che è che adesso io sono sul tablet e di conseguenza non ci riesco. vabbè fondamentalmente a questo a questo punto continuiamo altrimenti impazzisco appresso a lei va davanti va davanti a questo punto. Vabbè quindi fondamentalmente a questo punto la quel quello spot eh per l'appunto faceva la presentazione di un materiale che in qualche modo ha segnato la storia del paese. Il Moplen ovvero sia una nuova formula chimica inventata da Giulio Natta nel 63 che in qualche modo eh rendeva un prodotto estremamente resistente quasi immortale nel polipropilene iso iso tattico che di fatto poi fu prodotto dall'azienda Montesud che in qualche modo eh divenne poi eh una degli strumenti della rinascita post bellica del paese. Montesud che poi venne acquisita acquisita dal nel grande lavoro fatto con la chimica nazionale nel gruppo Montedison di cui la Montecatini fu inglobata per giungere fino alla famosa esperienza di Raul Gardini che con un ulteriore materiale anch'esso plastico in qualche modo come stamane si è ricordata la Coppa America dava seguito alla realizzazione di un'imbarcazione il famoso Moro di Venezia che avrebbe per l'appunto vinto per la prima volta ehl una regata di Coppa America in finale contro America Cup. Ovviamente eh la chimica anche sui mezzi marittimi eh e la plastica in particolare ha eh dato un grande contributo. In realtà forse proprio quello uno scherzo del destino che quell'imbarcazione fosse fosse di plastica e quindi in qualche modo noi abbiamo prodotti di plastica, materiali di plastica, imbarcazione di plastica e siamo circondati da questi materiali. Il che significa che a questo punto dobbiamo come utente eh del mare fare sicuramente qualche cosa. Questo qualche cosa eh non implica anche il fatto che possiamo andare a recuperare noi stessi. Tant'è vero che nella discussione di stamane, di cui ringrazio ovviamente i relatori precedenti, un eh un po' di domande sono sono cresciute perché io non faccio mistero di aver avuto la difficoltà e l'opportunità di raccoglierla in mare incrociandola soprattutto nelle aree che per le correnti in qualche modo generano l'isola di plastica nel Mediterraneo come è stato ricordato stamane soprattutto sulla Cicara Toscano e la Corsica quindi fondamentalmente verso verso la Giraglia dove di più è stato istituito il santuario dei Cetaci con tutto ciò che comporta a livello ambientale per suddetti animali. Quindi a questo punto bisogna sicuramente fare qualche cosa e noi come sezione della della Lega Navale seppur nel nostro piccolo ci dedichiamo non a quella che galleggia come isola ma a quella che in qualche modo spiaggia sulle nostre sul nostro litorale quindi fondamentalmente sulle aree eh che noi abbiamo per poter mettere a mare le eh imbarcazioni. Eh quindi diamo seguito a una serie di eventi soprattutto con Marevivo e con altre associazioni come la stessa legge salvamare è stato ricordato che consente e eh procediamo con soprattutto i nostri allievi ragazzi juniores a raccogliere i materiali che spiaggiano quindi non semplicemente plastiche eh nelle manifestazioni che vengono per l'appunto definite i cosiddetti palatini del mare. Eh tra l'altro la Lega Nazionale Italiana ha eh dato seguito ad una serie di protocolli di intesa con con l'ISPRA e per l'appunto eh stiamo eh pensando di riattivarci come come sezione per poter fare in modo e in maniera che eh queste attività diventano degli appuntamenti fissi affinché in qualche modo il contributo della cosiddetta società civile diventa fattivo sebbene sarebbe utile che noi stessi diportisti che navighiamo per mare in qualche modo potessimo raccogliere noi stessi e questa infatti è una delle curiosità se ciò sia consentito deve essere esclusivamente svolto in termini come dire associativi come come circolo che significa che se io dovesse arrivare con la imbarcazione in porto e scaricare qualcosa voglio sapere se quello poi effettivamente diventerebbe un rifiuto urbano. Certamente le cose da fare sono tantissime secondo eh noi non basta più né riciclare né riusare né ridurre ma in realtà l'obiettivo dovrebbe essere quello di passare direttamente a a una conversione ecologica anziché parlare esclusivamente di transizione visto che era male tecnologie come già ricordavamo a termini storici con l'esperienza della vasta riciclata eh con l'alastica diciamo biodegradabile soprattutto a livello di film del quello che avanzava dalla Mount Edison quindi la la Nova Mount eh passare direttamente ad una conversione ecologica quindi ragionare direttamente in termini di economia circolare producendo cose che in qualche modo qualora non dovessero essere vendute o utilizzate possono essere completamente riciclate per raggiungere ad un eh modello che sia rifiuti praticamente zero con l'agurio per l'appunto come completavo il eh la presentazione come diceva giustamente Cristoforo Colombo che in qualche modo il mare concederà ogni nuovo nuove speranze come il sonno porta nuovi sogni il che significa che dobbiamo continuare a sognare non arrenderci e eh utilizzare il riciclo e il riuso ma progettare in un modello socio-economico completamente diverso di economia circolare. Grazie. Grazie al al dottor Buccolini le chiederei se può provare a eh togliere la condivisione che noi non riusciamo più a vedere nulla. E allora provo ad uscire provo ad uscire e rientrare a questo punto se non è un problema va bene? Andiamo verso i saluti finali. Grazie Scusate per il per la difficoltà. Esco e rientro. Grazie grazie. Allora sì scusate io mi scuso con tutti i nostri partecipanti per la difficoltà tecnica del del dottor Buccolini comunque ringrazio anche lui del suo intervento che ci ha dato il senso anche della del ruolo che possono svolgere le associazioni, la società civile e in partnership con gli enti pubblici e privati per per risolvere il problema dell'intercettare la plastica, avviarla al riciclaggio, al recupero. Il webinar di oggi ha presentato come dicevo all'inizio delle dei punti di vista diversi eh cercando di offrire appunto una un'analisi per quanto possibile eh completa eh che ovviamente completa non può mai essere ma diciamo di di fornire spunti. Ho rientrato eh. Grazie grazie. Grazie. Eh di fornire spunti di riflessione purtroppo siamo arrivati un po' lunghi abbiamo purtroppo dei tempi piuttosto rigidi sulla gestione delle aule per cui eh siamo costretti a tagliare diciamo la la parte delle domande eh ma eh ripeto potete poi scrivere a noi organizzatori ehm se avete ulteriori domande o se vi volete mettere in contatto con i relatori cosa che questo noi eh diciamo rendiamo possibile anche successivamente così come eh sarà disponibile come è già stato detto la registrazione del webinar sulla pagina dedicata dell'evento eh anche successivamente per coloro che non avessero potuto partecipare diciamo in diretta. Eh a questo punto io eh chiuderei perché siamo andati un po' un po' lunghi buoni tempi e eh passerei eh alla parola a a Claudia Salvi per un saluto finale ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile eh questo questo webinar e più in generale la nostra serie di webinar sull'economia circolare eh quindi il gruppo di Europe Direct Roma Innovazione eh Claudia Salvi e Raffaella Scordino il Marta Ferrantelli della Europe Direct Trapani Sicilia e i colleghi eh della Europe Direct di Roma Tre in particolare la professoressa Moschetta che è stata citata che ha ehm che ha facilitato il contatto con il professor Parì e eh anche il professor Torino eh che è referente scientifico della Europe Direct Roma Tre. Spero di non aver dimenticato nessuno naturalmente le mie colleghe di Siena ehm Angelica Campiani e Monica Masti e tutto lo staff diciamo che sta dietro le quinte di questa serie di nostri eventi. Lascio la parola a Claudia Salvi vi faccio a tutti tanti auguri anche di buon Natale, buone feste, da parte mia ci rivediamo sicuramente nel duemilaventitré per altri eventi e e lascio quindi la parola per un saluto finale a Claudia. Grazie mille Massimiliano sì volevo salutarvi e ringraziare sia lo staff di tutti gli Europe Direct ma anche eh i relatori e principalmente i partecipanti e colgo anche l'occasione per augurare a tutti buone feste. Vi ricordo che sia la registrazione del webinar che le presentazioni saranno disponibili tra qualche giorno sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi e che ho indicato anche il link eh nella chat così come nella chat ho indicato il link per iscrivervi alla nostra newsletter e così che possiate essere sempre informati sulle nostre future attività. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a te Massimiliano per averci coinvolto in questa iniziativa molto interessante. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci auguri a tutti. Grazie di nuovo. Buona giornata. Grazie ancora a tutti i relatori e ai partecipanti. A presto. Grazie grazie di nuovo. Arrivederci.